Abbiamo detto che dobbiamo imparare ad essere professionali. Faccio una lista di cose. Punto primo, io devo essere uno che arriva sempre in anticipo, non che arriva in orario, arrivi in anticipo, ok? Devo essere uno che sa risolvere i problemi e non che li crea. Devo essere simpatico in qualche modo. Che cosa significa? Significa che non devo stare sulle palle alla gente, non devo essere uno scontroso, anzi, devo essere uno che aggrega, devo essere una persona che quantomeno non rovina l'equilibrio tra le persone. Bisogna fare sempre un ragionamento. Quando si è, per esempio, in tour con un grande artista, faccio l'esempio, io in questo momento sto seguendo il tour di Patti Bravo, che è una diva, non è solo un artista, è proprio una diva in Italia. Cioè è una persona che ha fatto 50 anni di carriera, conosciuta in tutto il mondo, ha venduto 100 milioni, non so quanti dischi, milioni di dischi, ok? Quindi stiamo parlando di un personaggio proprio che è fuori dalla portata di una persona normale come me, ok? Come, diciamo, quando lavori con questa gente, tu stai 24 ore, diciamo, con la produzione, non con l'artista, con la produzione, con tutte le persone, con i musicisti, eccetera. E solo per un'ora e mezza, massimo due ore, sei sul palco con l'artista, ok? Quindi questa proporzione è molto importante, cioè io devo tenere presente che io sto su 24 ore, solo due ore sul palco a suonare, tutto il resto è lavoro di relazione, cioè parlare col tour manager, parlare col produttore, parlare con l'impresario, organizzarsi per gli spostamenti, fare squadra con quelli della band per cercare di fare delle prove che siano utili, che aiutino il gruppo a migliorare. Sembra che sto dicendo cose scontate, ma spesso e volentieri all'interno delle orchestre, all'interno delle band, all'interno delle big band, ci sono delle faide, il bassista e il batterista che hanno litigato col pianista perché il pianista è amico del chitarrista, tutte queste cose qua, te le devi scordare, cioè tu devi cercare di capire, di essere uno psicologo, devi capire le persone che hai intorno, cercare di relazionarti al meglio possibile perché tu non devi essere il blocco mentale per questa gente, non devi stare sul cazzo a nessuno in maniera tale che si crei una squadra nei mesi, nelle settimane e che quindi questo diventi poi un gruppo di amici che sul palco dà il massimo per l'artista. Nel mio caso attualmente Fatti Bravo, in passato ho lavorato con altri artisti, anche nel mondo del teatro per esempio, è importante far, diciamo, essere una persona che ti mette di buon umore o quantomeno che non ti mette di cattivo umore, ecco, quantomeno non bisogna essere sottrattivi, bisogna essere neutri, cioè se proprio non riesci ad essere una persona che mette a proprio agio le persone, quantomeno cerca di essere una persona che non le mette di cattivo umore, ecco, questa è la prima cosa. Quindi pensa sempre che, dando per scontato che i brani che devi fare li sai suonare e che nessuno ti insulta per chi li suoni male, diciamo così, però dando per scontato che tu suoni giusto, due ore su 24 sono quelle che tu suoni, tutto il resto è altro, ok? Quindi è importante tenere presente questa cosa, perché così cominci a non essere più egocentrico, ma cominci ad essere una persona che si preoccupa del fine ultimo, di migliorare il risultato finale, che è il tour, il disco, quello che è, ok? Quindi questo è importante. Cosa importante legata a questo è che tu non devi creare problemi. Come si creano i problemi? Semplicissimo. Problemi di natura tecnica, cioè l'artista ti dice che vuole una cosa, tu la reputi sbagliata, e quindi gli dici, no, io faccio così. Eh, sbagli, perché quelli ti hanno chiamato perché tu devi risolvergli un problema. Magari in quel momento il cantante ha il problema che vuole sentire la batteria in un certo modo. Tu non sei dentro la mente del cantante in quel momento. Quindi tutto quello che a lui gli passa per la testa tu devi essere in grado di interpretarlo e quindi di poterlo rifare sullo strumento o quantomeno provarci. Se ci riesci o no è indifferente perché in verità l'importante è l'approccio che tu hai, cioè ti hanno chiesto di fare una cosa, non ti porre, no, non si fa così, io il batterista sono io, ci penso io. Poniti come, questo è un ottimo modo per imparare una cosa nuova da una persona che ne sa più di me. A prescindere, cioè poniti così, provi, sperimenti, se è una cazzata sarà l'artista stesso a dirti guarda, lascia perdere, no, 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 fai come facevi prima che era meglio. Ma in quel momento si vede che all'artista gli è passata davanti un'idea che ha voluto sperimentare e tu eri il mezzo per sperimentare questa cosa. Se ti poni male con l'artista e sei scontroso, vuoi per forza imporre il tuo modo di suonare, il tuo approccio, spesso e volentieri crei un problema, non è che lo risolvi. E quindi lo fai una, lo fai due, lo fai tre, alla terza sei fuori. Ok? Quindi devi essere una persona che risolve i problemi, devi imparare a risolvere il problema. Nell'aspetto musicale come faccio a risolvere i problemi? Semplicissimo. cerco di fare tutto quello che mi si chiede. Ovviamente no, se ti dicono buttati dal ponte, intanto fai una rullata, no. Però, se ti chiedono questo rullo fallo un po' più così, questo colpo fallo un po' più colà, anche se tu dentro di te in quel momento pensi vabbè, ma questa è una stupidaggine, fallo, provaci. perché magari scopri che l'artista ti ha chiesto una cosa, magari esprimendosi anche male, però voleva un certo tipo di risultato. Tu provando, interpretando, sforzando di capire cosa voleva l'artista, puoi in qualche modo tentare delle soluzioni. Se una di queste soluzioni poi a lui piace, all'artista piace, tu hai capito cosa intendeva e quindi hai imparato una cosa nuova. Devi sempre prenderla così, secondo me. Non devi assolutamente metterti di spigolo, perché quello è il modo migliore per non lavorare, ma non con l'artista famoso, con nessuno, anche col gruppetto che fa la cover band. Altra cosa importante, quando si lavora con gli altri, e questo credo di averlo detto anche prima, non devi mai mettere in mostra te stesso, devi mettere in mostra la musica che stai suonando. Quindi, se tu metti in mostra te stesso, facendo il feel fine di mondo, la cosa difficilissima, facendo, diciamo, essendo troppo invadente con la batteria, che è uno strumento che a diventare invadente ci mette pochissimo, e cercare di prevalere sugli altri, musicalmente, sono ricamente, eccetera, eccetera, stai tranquillo che alle persone gli stai subito antipatico, ok? E quindi, finisce male, finisce che la gente con te non ci vuole lavorare, non perché non sei bravo, ma forse perché sei troppo bravo, da interpretare bene, cioè sei troppo tecnicamente bravo, e quindi rischi di mettere la tecnica prima della musica, quindi metti feel inutili, difficilissimi, bellissimi, ma inutili in quella canzone, volumi troppo esagerati, non gestisci bene le dinamiche perché pensi che è più importante quello che fai tu, ovviamente so che mi sto rivolgendo ovviamente a persone che ancora non sono super professionali o super professioniste, se sei già un professionista lascia perdere subito questi video, però cerca di essere essenziale, semplice e di pensare sempre ma quello che io sto facendo alla batteria è il modo migliore di accompagnare questa canzone, di accompagnare questa canzone, sì o no? Posso semplificare ed essere comunque di grande arricchimento per il brano? Se sì, ci provo, perché in questo modo tu valorizzi la musica e non valorizzi il tuo strumento, se valorizzi la musica valorizzi tutta la band, se tutta la band è contenta e tu suoni bene con tutta la band, si suona di più, si fanno più concerti, si lavora meglio, si guadagnano più soldi, ok? Quindi è tutta una catena, fondamentale, ok? Quindi, prima cosa, la batteria è uno strumento che deve arricchire il brano con semplicità, se si parla di musica perché di solito si lavora di musica nel 90% dei casi andando a suonare in giro e quindi fondamentalmente devi essere essenziale e dallo stesso tempo arricchire, devi cercare di contribuire in maniera artistica nel miglior modo possibile a quello che stai facendo e non tentare disperatamente di mettere in risalto a te stesso, altrimenti dicono subito che sei una persona che sia egocentrico, che deve far vedere che è bravo solo lui, eccetera eccetera e quindi alla fine alle persone gli stai antipatico, crei il problema e via, alla fine non si lavora più. Atteggiamento che bisogna sempre avere quindi è che io devo poter imparare anche da quello che mi sembra l'ultimo scappato di casa. Se io mi pongo come una persona che cerca sempre di imparare cose nuove, ok? È facile che io veramente imparo cose nuove, veramente vedo tutto con un occhio costruttivo, di conseguenza veramente imparo, veramente sto nell'angolo giusto, cioè quello di essere una persona costruttiva che aiuta il progetto a crescere, eccetera, e automaticamente si sparge la voce che io sono un tipo così e quindi tutti vogliono lavorare con me, ok? Io da quando ho cambiato questo tipo di atteggiamento non mi è mai più capitato di avere dei problemi con le band nelle quali suono, a tutti i livelli. Perché? Perché io arrivo, cerco di fare cose semplici, che però nel contesto musicale sono efficaci e in quel modo le persone sono contente, sanno che non devo fare niente di più né niente di meno, ma sto contribuendo al miglioramento generale e artistico di quel progetto e che quindi si lavorerà, ok? Quindi questo è l'atteggiamento giusto. Se riesci a modificare questo tipo di atteggiamento, funziona per forza. Se invece sei un pochino uno che mette troppo al centro se stesso, rischi di rimanere a casa tua, suoni da solo e non ti paga nessuno, ok? Quindi non ci campi, ok? Con la musica da questo punto di vista. Per avvalorare questo concetto ti faccio notare una cosa. Se tu vai a vedere, prendiamo YouTube, no? Quanti batteristi fine di mondo conosci su YouTube? Io personalmente, di questi proprio che stanno sempre tutti i giorni sul, diciamo, col massimo delle visualizzazioni, sono veramente pochi quelli che tu dici porca miseria, questo è proprio un... cioè, diciamo, c'è solo lui, ok? Quanti miliardi però di progetti musicali esistono in giro per il mondo, suonati bene, di gente che fa il musicista di mestiere e che magari non lo conosce nessuno? Ti faccio notare che la quantità di progetti musicali nel mondo che non sono Shakira, ma che comunque sono composti da persone che vivono di musica, quindi che loro mangiano e pagano le bollette facendo i musicisti a buon livello, sono migliaia, forse miliardi in più di quelle 4-5 realtà che noi conosciamo sul web e che prendiamo come esempio, ok? Io non mi posso minimamente paragonare al lavoro di un batterista tipo Steve Gadd, tipo Vinicolo Aiuta, tipo questi grandi nomi. Punto primo per una questione di età, cioè loro sono nati e hanno vissuto e hanno cominciato a lavorare in un altro periodo storico, praticamente, ok? Che non si può minimamente paragonare con questo, ok? E un'altra cosa importante è che loro stanno, tra virgolette, in un olimpo cioè dove lavorano con dei grandi nomi, con delle grandi cose ma non esiste mica solo Sting, non esiste mica solo, ecco appunto i gruppi che Simon e Garfunke, adesso parlo dei batteristi che hanno collaborato con i gruppi più importanti esistono migliaia di realtà, migliaia, milioni di realtà musicali che tu non conosci, che io non conosco ma che in verità consentono a gente di sfamare la propria famiglia, ok? E non li conosce nessuno, lavorano magari in Cina in una piccola regione della Cina dove quello lì è un gruppo famoso lì e lì guadagnano bene, hanno degli ottimi, tra virgolette, stipendi suonando la loro musica e insegnando ogni musicista ma non li conosce nessuno in verità sono conosciuti nel loro ambito, nella loro zona, ok? quindi, ricordati tutta questa gente sono campioni del mondo di tecnica? sono campioni del mondo di composizione? sono campioni del mondo di creatività? no, probabilmente no sono come me, sono persone normalissime eppure vivono di musica campano di musica pagano le bollette con la musica, ok? quindi che cosa significa questo? significa che tu devi ambire sicuramente a diventare il miglior batterista del mondo devi studiare, devi fare di tutto quello che è possibile per ambire perché quella è un'ambizione sana però non deve diventare una malattia e non deve diventare un punto di vista sbagliato quindi non puoi pensare che devi diventare il numero uno del mondo di tecnica perché così lavorerai perché vai velocissimo, secondo me, nella direzione sbagliata devi imparare a fare musica ultimamente vedevo, per esempio ho visto un video di Massimo Morriconi che è un bassista bassista che ha fatto tantissimi dischi con tantissimi artisti blues, jazz, rock, funk ha lavorato tantissimi dischi di Mina, per esempio quindi un bassista eccezionale e se senti parlare Massimo Morriconi ti rendi conto di quanto questa realtà il fatto che questo problema della tecnica ormai si è diventato per tutte le persone che non hanno capito in verità cosa è importante per lavorare nella musica il punto di arrivo cioè io sono un fenomeno di tecnica quindi devo lavorare e poi si scopre che non è così mentre tutti gli aspetti che sono la condivisione della musica l'apprezzare il gustarsi la musica nello stesso modo con le persone con le quali stai suonando sono più degli arricchimenti quelli piuttosto che essere bravissimo tecnicamente quindi tu riesci a suonare meglio con gli altri ok? ricordati sempre che la musica si fa con gli altri e per gli altri quindi se non tieni presente questa cosa fai solo confusione e non lavori con nessuno perché fondamentalmente le persone non ti chiamano le persone non vogliono un robot le persone vogliono un essere umano che lavora con loro che accresca il progetto ecco, mettiamola così ok? quindi ricordati un punto fondamentale è io sto mentalmente nel giusto punto di vista sto mentalmente con l'angolo giusto di aggressione tra virgolette di un ipotetico rapporto lavorativo con le persone con gli artisti eccetera ti assicuro che la cosa importante è quello che dicevo prima cioè arrivato a un certo livello tecnico non fa più tanto la differenza quello ma è il tuo approccio personale il tuo modo di essere il tuo modo di comportarti che fa la differenza e che ti porta a lavorare sempre a livello più alto ok? ovviamente sto dando per scontato che tecnicamente sai come si suona lo strumento sei diventato una persona tecnicamente esperta quanto basta per lavorare in quella determinata fascia che può essere fascia A fascia B fascia C sempre più in alto ok? quindi tieni presente questa cosa nel prossimo video ti spiego qual è secondo me la visione e quali sono le cose che io faccio per fondamentalmente cercare di essere il più professionale possibile quindi per cercare di rimanere di continuare a mantenere me e la mia famiglia con la musica ok? quindi unire le due cose cioè io riesco a vivere di quello che mi piace fare quindi non soffro perché lavoro tanto ma anzi sono contento perché lavoro tanto anche tante ore al giorno faticando sicuramente con mille problemi ma comunque facendo un mestiere che amo grazie a tutti Grazie a tutti.